Mi ha comprendo, signor Cruz, che la persona sta a encargare, che è un aspetto di crea, se mi puoi amare così, è una festa qui, per lo che sta stagging, il cammino da Bini Stans, che c'è, nel quale tu non puoi aspettare? Normalmente mi ricorda che la festa è stata in due o tre stagge, è il caso di via che trovi? No, è via che noi staggiamo un stage centrale, nel triangolo, ma ne cosa staggiamo, è un stage centrale, con un po' di turban, questo è una ventaja grande che noi staggiamo via qui, lo che noi staggiamo è attività per ricreare, è una festa, ma ne cosa vorrei mentionare, intenzione per il pubblico vengosa, e noi staggiamo in un supermercato, vendimento di pia, noi staggiamo i formi di schermi, ci sono visti anche tutti gli tutti, ci sono stati rontoni, noi staggiamo il ruotarello che sostituano, noi staggiamo in buchi, noi staggiamo in vendimento di malta, noi staggiamo in Wheel of Fortune con giovani corpondano per molti di biciclo con pelucce o che tipo di cose, e noi staggiamo in una via che noi staggiamo per intertenere il pubblico anche durante il interdietro. Nostra spera che il luogo sia differente, non sia un compagno e buon, che l'ambiente è via qui, lo sia differente che l'altro via, perché tutti gli altri sono più vicini e tutte le attività sono più vicini. Mi comprendo che il tuo lavoro è rifatto da un'altra maniera di costumare, che è che il tuo lavoro è andato qui, e per il qualsiasi è rifatto, il tuo lavoro è rifatto, il tuo lavoro è rifatto? Il tuo lavoro è un Suzuki Vitara, nuovo, un SUV, l'oggetto è ottenibile nel tuo miembro del Rotary Club, ma anche in alcune oficine, abbiamo una oficina del Sr. Hoversky, abbiamo Amtree, abbiamo Bullchance, tra le altre, ma anche abbiamo un Facebook, un comunicato di prensa, abbiamo un Facebook di Fiesta Rotare, e un'unico tampe pubblico, por vai acudire e eventualmente pidi in Tecata. E per questo non è Tecata che da Mascosco costumare? Per questo non è costumare, 25 ore per Tecata, e fuori di auto, logicamente, noi abbiamo un cruz, abbiamo un Tecata per Amsterdam, abbiamo un flat screen e un altro che è Giffenandame.